Era il 29 dicembre 2010 quando Treconci vennero giù riversando milioni di metri cubi di acqua, una notte di paura e apprezzione per l'intera alta valle del Tevere e Tosco Umbra. Adesso, nell'anno del decimo anniversario, i lavori di rifacimento del muro di sfioro della diga di Montedoglio sono ufficialmente iniziati. Il cantiere lo scorso ottobre era stato infatti consegnato alla Crea Costruzioni di Terni, che si era giudicata all'appalto e da qualche giorno è diventato operativo. Inizialmente si procederà con la completa demolizione della parete, un intervento che richiederà un paio di mesi. Poi si passerà alla costruzione del nuovo muro di sfioro, che sarà ricostruito con una variazione rispetto al progetto iniziale degli anni Ottanta. Nel progetto che è stato redatto e approvato dall'ufficio autorità dighi all'interno del Ministero, sono stati infatti considerati anche tutti i vari aspetti legati alla sismicità. Al termine dei lavori previsto per ottobre 2020, dunque, il muro sarà più basso ma al contempo più largo, per permettere all'intera struttura di essere più sicura. Sarà inoltre alleggerita anche la parte a monte, in maniera tale da esercitare minor pressione sull'infrastruttura. La portata massima della diga sarà di circa 140 milioni di metri cubi d'acqua, con un abbassamento del suo livello di circa un metro. I lavori sono stati finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per un importo di circa 6 milioni e mezzo di euro.